Ciao a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Whites e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 15 Ultimate Team. Me l'avete chiesto in tantissimi e nonostante non l'abbia ricevuto, visto che comunque costava poco, costava sui 70.000 crediti, ho deciso di portarvi la recensione di Jeremy Menez. Jeremy Menez, uno dei giocatori inserito nel Team of the Week di questa settimana, l'abbiamo visto poco tempo fa nella sua versione in forma, che era uscito nel primo Team of the Week e adesso nel Team of the Week 21 è uscita la sua seconda versione in forma dopo la prestazione positiva contro il Parma. Sistiche sicuramente positive, iniziamo comunque come sempre dalla velocità, velocità che è molto buona, era già secondo me sufficiente nella versione in form, qua ha avuto ancora un leggero miglioramento, 85 di accelerazione, 88 di velocità massima, quindi quando è lanciato in contropiede sarà difficile da recuperare. Vi segnalo il 78 di equilibrio che non è malissimo, gli permette di vincere qualche scontro, di non finire a terra subito come magari altri giocatori, ma vi ricordo che ha solo 66 di forza fisica, quindi non è consigliato quando vi arriva un 2-3 difensori ricevere uno scontro fisico, buttarla sul fisico perché perderete miseramente palla, scaricatela piuttosto, magari saltatene uno e poi tirate, dipende dove siete, se siete vicini alla porta. E parlando del tiro, avevamo notato che la qualità peggiore, per così dire, era la finalizzazione e c'è stato un miglioramento, secondo me si nota abbastanza perché è passato da 72 di finalizzazione della versione in form a 77 di questa seconda versione in forma. E devo dire che comunque si nota perché Menez non è certo un Higuain, un Gomez come abbiamo visto questa settimana, che la piazzano dentro quasi sempre, però devo dire che sono riuscito a fare più gol che partite, e questo è sicuramente un aspetto positivo che in tutti gli attaccanti è veramente molto importante e considerate che io Menez l'ho utilizzato come falso 9, quindi leggermente più arretrato. La potenza di tiro è discreda, con 79 non ha un gran tiro potente, mi pare migliore rispetto a quello indicato sulla carta il tiro di precisione, qua è solo 75, però secondo me è decisamente buono, mi sembrava un valore superiore all'80 e quello che invece concordo è il long shot che è ancora solo 71, Menez è un giocatore che dovete utilizzare per finalizzare all'interno dell'area di rigore, da grosse distanze Menez è assolutamente sconsigliato. Per quanto riguarda il dribbling invece, molto molto buono, era già secondo me ottimo nella sua versione precedente, qui ancora migliorato, ha 88 di dribbling, quindi un valore eccezionale, ha 88 di controllo palla, anche qui un valore splendido, e soprattutto ancora 4 stelle skill, quindi potete fare tutte le skill di base ed è anche molto agile, perché ha 85 di agilità e non è, vi ricordo, bassissimo Menez, è un metro e 82, quindi è un'agilità anche abbastanza alta per i giocatori inseriti in quella fascia di altezza. Quindi se amate dribblare, Menez è sicuramente uno dei giocatori migliori della serie A sotto questo punto di vista. Discreti anche i passaggi, certo non sono la sua caratteristica principale, però è in grado di passare la palla tranquillamente e è buono il fisico per quanto abbiamo visto, soprattutto per l'agilità, magari un po' di elevazione, perché ho provato a segnare anche di testa, certo non sono le sue caratteristiche principali, però passabili. Chemistry style consigliati per questo giocatore? Vi direi o il chemistry style di base che ho utilizzato io, oppure predatore che va a aumentare il tiro e il passaggio, il tiro soprattutto per chi ama tirare dalla distanza o vuole qualche punticino in più nella finalizzazione. Dove utilizzare questo giocatore? Allora, oltre a Falso 9 nel 4-3-3-5, che vi ho fatto vedere all'inizio del video, comunque nelle squadre che avevamo utilizzato Menez nella sua versione in forma, vi posso consigliare un 4-1-2-1-2 ibrido, in questo caso abbiamo Benzema, Matuidi e Aurier inseriti in una serie A, vi consiglio molto Pogba come trequartista, soprattutto quando uscirà Pogba up, ve lo consiglio in quella posizione perché è veramente mostruoso, e davanti avete Menez e Benzema, due punte molto veloci, brave a finalizzare, con ottimo dribbling, quindi davvero consigliate, oppure lo potete arretrare leggermente come a T, in questo caso insieme a una punta molto fisica come Mario Gomez, che difende palla e può far inserire negli spazi Menez, che poi può saltare un uomo e scaricare la sua volta per Gomez, o comunque finalizzare l'azione. In conclusione, questo Menez mi è piaciuto davvero tanto, perché ha un'ottima velocità, un tiro che è migliorato rispetto alla versione in forma, ha 4 stelle skill e 4 stelle più debole, è ok come seconda punta perché potete utilizzare sia come falso 9, sia con una T, magari insieme a una punta più fisica, abbiamo visto Gomez, ma devo dirvi anche Morata, anche lo stesso Tevez, per carità va benissimo, ha un dribbling fantastico ed è abbastanza low cost, perché su Xbox costa intorno ai 90k, su PlayStation se non sbaglio intorno ai 140, che è un prezzo secondo me sicuramente più onesto rispetto a quello che abbiamo visto per l'Inform che aveva raggiunto i 440.000 crediti su PlayStation e non li valeva assolutamente. Di contro, in alcune partite si assenta, perché l'avevamo visto, proprio come nella retta, in alcune partite sembra che non abbia molta voglia di giocare e soffre difensori fisici perché la forza fisica non è di sicuro il suo valore migliore. Quindi, io ve lo consiglio, questo venerdì dovrebbe uscire la sua versione up, quindi attenzione potrebbe salire ancora leggermente di prezzo e potrebbe arrivare a 83, quello sarebbe una carta veramente, veramente interessante. Quindi, con oggi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!